Mi presento, è stata una scelta che abbiamo avuto due, come abbiamo preso il Presidente e il Direttore della Sportiva. È una cosa che è nata in maniera così, quasi casuale, però fortemente voluta anche da parte mia. Io lascio un ambiente dove in un anno e mezzo abbiamo fatto cose belle, importanti, tutti insieme e venire a Padua per me professionalmente è una cosa che mi dà qualcosa in più, perché so che è una piazza importante, dove sono molto spesso nelle partite, so cosa si aspetta la gente e cercheremo di lavorare con molta molta serietà, senza promettere le promesse di marinaio, non mi piace, e quando sapevo di poter venire a una piazza così non ho avuto il minimo dubbio, perché credo nel lavoro che le persone mi hanno scelto. Per fare dei risultati ci vuole una squadra, che non è solo la squadra di campo, ma una squadra anche che sarà compatta nella gestione di un gruppo che poi va in campo, lavora e dà soddisfazione alla gente. Questo credo che ci debba essere per ottenere risultati.